Tutti quelli che vogliono fare politica devono fare politica sana. La politica sana è questo, è portare il problema nei palazzi che contano e devono risolvere i loro problemi. E se non sono capaci di risolvere, che siano di destra, di sinistra o di centro, che vadano a casa e lasciano il posto ad altri. Intento nobile ma a quanto pare ignorato o sottovalutato. Marco Prezzo del gruppo Stop Immigrazione si sta dando da fare per far sì che i triestini più in difficoltà possano beneficiare di alcune agevolazioni come ad esempio, per dirne una su tutte, degli sconti per gli abbonamenti degli autobus. Ebbene lo stesso Prezzo, dopo aver esposto il problema qualche settimana fa a Ring, ha avuto un incontro in questi giorni con l'assessore provinciale ai trasporti Vittorio Zoglia. Tutte le parti politiche si sono dimostrate volenterose, resta però il dato che nulla attualmente è stato messo in atto per favorire i cittadini più bisognosi. L'assessore Zoglia è stato molto disponibile. Tra l'altro mi ha informato che lui già due anni fa in provincia aveva posto questo problema che poi era sorta una sorta di problema con l'ISEE perché tante persone che avevano presentato l'ISEE alla fine hanno visto che i dati non erano veritieri e il 30% di domande presentate non erano valide. Il discorso suo è stato che loro hanno portato un ordine del giorno, si parla di un paio di mesi fa, nella giunta provinciale, in cui chiedevano un contributo, un sostegno per le persone in difficoltà. E questo va dentro anche negli abbonamenti reti autobus. E ovviamente la Regione non ha ancora risposto. Quindi noi ci impegneremo a ciò che la Regione prenda in considerazione questo grande problema perché tanti i nostri concittadini vivono situazioni di forte degrado. In una trasmissione proprio a Ring che io ero presente, il consigliere comunale De Carli appoggiava la mia proposta. Poi da lì non so se qualcuno si sia mosso a livello comunale, però ci siamo mossi noi. Noi non si fermiamo, andiamo avanti, io mi batto per tutte le persone che non possono portare la propria voce.